Un progetto per supportare le persone con disabilità motoria e visive e le loro famiglie. Tutti al mare nasce a questo scopo da un'idea delle associazioni contro le barriere e gli amici del Leone in collaborazione con altre del territorio è destinato a creare un'oasi con 5 postazioni nelle spiagge pubbliche in ogni comune costiero delle province pugliesi, consentendo così a chi con disabilità non possa pienamente godersi l'accesso alle spiagge per via della mancanza di corridoi d'ingresso al mare o servizi complementari, considerando i benefici derivanti dal contatto con la natura. Ogni oasi potrà ospitare giornalmente 10 persone, un modo per sensibilizzare anche i gestori delle strutture a concedere spazi di accoglienza che tengano conto di bisogni differenti, garantendo a tutti di godere di beni e servizi. Questa conferenza assamblea tutto parte da fine maggio di quest'anno, quando abbiamo inviato a tutti i comuni costieri della regione Puglia, ai sindaci dei comuni, riguardo alla realizzazione di un progetto che riguarda rendere un'oasi accessibile in ogni comune della regione Puglia e abbiamo ricevuto delle risposte da questi comuni i quali non potevano realizzare questo per indisponibilità economiche. Allora abbiamo pensato di cui invoce direttamente la regione e abbiamo pensato che oggi presenteremo questo progetto che sarà presentato appena insediato il nuovo consiglio regionale dopo le elezioni di domani e dopodomani e presentare in commissione competente un progetto in cui si chiede alla regione di finanziare i comuni costieri per realizzare questo progetto, che si tratta in poche parole di un'oasi dove sono previste cinque postazioni per disabili motori, in modo con tutte le attrezzature per poter farsi il bagno in completa autonomia. Oggi finalmente stiamo raggiungendo un piccolo traguardo, 29 associazioni si riuniranno per dar vita a questo progetto che è già in atto dall'anno scorso, però adesso cerchiamo di portarlo a compimento. Si tratta di un progetto dove ci saranno cinque oasi e delle passerelle per portare i disabili a mare. Il nostro obiettivo è portarlo uno su ogni paese che si affaccia sul litorale della nostra regione, quindi coinvolgiamo un po' tutta la Puglia, da Bari fino a Lecce. Speriamo di riuscirci, questo è il nostro obiettivo più grosso, quindi 29 associazioni oggi si riuniranno e daranno vita a un gruppo unico di associazioni per dare una grossa voce e una grossa mano alla gente diversamente abili, chiamiamole. Sono stati invitati i comuni a partecipare a questa conferenza stampa, speriamo di averne qualcuno stamattina qui, ma comunque questa è una lunga tappa di eventi che andremo a fare. Grazie a tutti.